L'artista esistenzialista, Francesco Chiofalo, Drusilla, Gucci, Francesco Chiofalo, se non sbaglio, un personaggio è stato a Temptation Island, io queste cose le so poco o nulla perché non vedo televisori per scelta personale, vabbè, rivedo con un amico, sono passato dal 20 al 10%, cerco di vedere cose che hanno un senso onestamente. Perché vi faccio sto video su questo Francesco Chiofalo? Sa Drusilla, insomma, la compagna, era con trassi intervento che oggi o non so quando andrà a finire, spero che lui bene, per cambiare il colore degli occhi da marroncino, castano, orciola, fate voi, ad azzurro. Signori, siamo realmente, abbiamo toccato il fondo, abbiamo raschiato il fondo, cioè nel senso che capisco l'autostima, gli psicologi, le chiacchiere, quello che volete, tutto quello che volete. Però abbiamo cominciato con interventi un po' così, blafroplastica, mastoplastica, poi che ne so, poi ce ne sono talmente tanti. Oggi questo intervento è pericoloso, a cui si stanno sottoponendo in tanti, che devo riguardasse delle lentine, magari qualche, no, è proprio un intervento che va, diciamo, non so, cornea cristallino, credo cristallino, non lo so, non so nello specifico, però è molto molto pericoloso per un vezzo. Signori, per un vezzo si rischia, non dico la vita, ma delle complicazioni, magari, del visus a livello visivo, non riesco a capire, signori. Sono veramente perplesso, interdetto, essere fatto, come quest'epoca è l'epoca dell'apparire, signori, siamo già un bel po' di anni fa, era così, ma stiamo andando proprio nel baratro più totale, è sempre peggio. Non c'è più una cura dell'animo, non c'è più una cura del cervello, quindi non si legge e non si nutre il cervello, non si prega e non si nutre l'animo, signori. Bisogna soltanto nutrire il corpo, che per l'amor di Dio ha bisogno di mangiare, ha bisogno di scopare, se vogliamo parlare, scusatemi, divento in quest'ottica trascendo un minimo di volgarità, ma non è per essere volgari, è per essere provocatori, signori. Tutto quello che volete, perché tutto hanno bisogno di tutto, è il contrario di tutto, ma credo che ci vorrebbe un buon sano equilibrio, un minimo. Credo, signori, che veramente questa notizia, ripeto, a prescindere dai personaggi, quali siano, ripeto, non li conosco neanche, perché non sono preparati in materia, perché siano, che ne so, gossip o storie di questa tipologia, fiction, però, signori, veramente è troppo, credo io, non per essere canonico, bacchettoni provincialotto, però, non so, veramente siamo a questo, veramente c'è questa non accettazione, cioè, nostro signore ti crea tondo e tu vuoi diventare quadro, andando contro natura, non riesco proprio a capire. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.